ma da quanto tempo? adesso ho passato un paio d'anni minimo ma un paio di lustri è tanto che non ti vedo non vi viene ancora la barba ma so sempre io però ma dove vai? Mario te lo mettete qua vieni 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 Dario Dario vieni vieni Dario Dario permetti un attimo dovresti dire agli autori di striscia che io ho mandato un video molto carino da diciamo per email dove io e un altro regista un altro attore facciamo uno sketch molto carino al Parlamento Prode Fernando l'intervistatore sono io l'intervistatore ti sfugge questo ciao Dario io ti saluto ci vediamo alla prossima prossimamente su questo schermo ciao dalla festa del cinema è tutto un saluto dal Prode Fernando e da Dario Ballantini grazie a tutti 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 grazie a tutti